Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear me say me, don't you? Weee, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi guardate il braccio sinistro del robot è finalmente disponibile ragazzi! Guardate che roba! Enorme! Enorme! Anzi il braccio destro scusate! Disponibile da pochi secondi, come vedete perfettamente meccanizzato con il megapistone E davvero di una dimensione assurda raga! Assurda! Guardate che mano gigante! Guardate che storia! Meraviglioso raga! Meraviglioso! Ce lo vediamo un pochettino da lontano per rivedere la maestosità di questo robot che è davvero assurdo e adesso aspettiamo il prossimo braccio e ovviamente anche la parte che manca, che sarebbe la testa! Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao!